Cosa ci fa questo disegno negli uffici di produzione di Don Matteo? Il disegno credo che sia di Emma o un bambino pernino frassica che è molto dolce e generoso con i bambini e si diverte con loro. Questo è il quindicesimo paninetto che si mangia. Adesso dobbiamo recitare, giusto? Lei prima deve mangiare tanto e così puoi carbura o carbura, come si dice? E così poi è pronta per recitare. Che scena devi girare adesso? Che devi dire? Deve dire coniglio. Coniglio, devi dire coniglio. Martina, qual è l'animale che ti piace più di tu? Il coniglio. Io piace ai bambini. Mi mandano il disegnino e quello era carino. Non si capiva se era una chiesa o una chitarra, però era bello. E poi mi mandano i regali. Un bambino di due anni mi ha mandato una fetta di panettone di Natale scorso.